Ciao a tutti e benvenuti. Continuo a pensare che il tema centrale del weekend sia e resti la nazionale, con il rigore di ieri. Ne parlerò, ne parleremo in relazione soprattutto a Leonardo Bonucci, che era un po' l'emanazione in campo ieri sera contro la Svizzera di Roberto Mancini, ma molti di voi naturalmente mi sollecitano sul tema di Davide Calabria. Il primo messaggio che mi è arrivato proprio fra i messaggi di YouTube è stato Calabria rotto continuo al massacro, un tifoso del Milan che si vede prova gusto nel buttarmi la notizia negativa contro, quasi per sfogarsi. Io vi invidio perché avete qualcuno con cui sfogarvi, cioè a voi vi passa e intanto gli ammolliamo la sola a quello che sarei io. Intanto rotto significa rotto, è un termine, lo trovo un termine zottico, un termine villico, un termine volgare, perché quando un giocatore ha un problema, un polpaccio, non è rotto. I giocatori si rompono quando si rompono, quando ti rompi qualcosa devi andare sotto i ferri, devi andare in sala operatoria. Calabria non andrà in sala operatoria, quindi rotto è il messaggio, non Calabria. Continuo adesso, continuo adesso col massacro. Prima OneFootball, OneFootball con i suoi contenuti, tutti gratuiti, OneFootball con news, approfondimenti, curiosità, video, highlights, anche della serie A italiana, ma non solo. OneFootball ha una app gratuita, il link dell'app di OneFootball lo trovate nella descrizione di questo video, cliccate sul link, scaricate l'app di OneFootball e vi troverete sicuramente bene e avrete uno strumento importante in più a vostra disposizione con una maxi offerta di prodotti a livello OTT per quanto riguarda highlights e contenuti video sull'Altie OneFootball. Quindi Calabria rotto, ricomincia il massacro. Ora, siamo tutti sotto shock per quello che è accaduto nella seconda settimana della sosta di ottobre, per carità, però faccio presente al cuor di Leone che mi ha scritto Calabria rotto, ricomincia il massacro, che i pensieri negativi chiamano fatti negativi, i pensieri positivi chiamano fatti positivi. Mi spiace che Stefano Pioli non gli abbia insegnato nulla, mi spiace che Stefano Pioli, che fa buon viso a qualsiasi tipo di notizia, a qualsiasi tipo di sorte, non abbia fatto proseliti, anche perché dopo la serie di notizie negative che ci siamo ingollati nella seconda settimana della sosta di ottobre, in campionato abbiamo fatto quattro vittorie. in un pareggio, no? Quindi io mi auguro che non sia iniziato nessun massacro. Certo, sul conto di Davide Calabria è la seconda volta che succede, perché anche alla metà della sosta di ottobre, alla vigilia della seconda partita di Nations League, quella del terzo e quarto posto contro il Belgio, Calabria lasciò la nazionale e torna a Milanelli. Probabilmente anche all'epoca, per un problemino, non so se al polpaccio, ma di carattere muscolare. Poi, per carità, Calabria si era fermato per tempo, si era fermato per tempo, e avrebbe poi giocato la partita contro il Verona, che era la prima dello slot di partite dopo la sosta prenazionale di ottobre. Però è la seconda volta che su dieci giorni di allenamento con la nazionale, a metà di questi giorni di allenamento con la nazionale, Calabria si ferma. Quindi, evidentemente, immagino che sia così abituato al lavoro che viene fatto a Milanello, al modo in cui viene trattato e gestito a Milanello, che quando cambia, probabilmente, è sempre pericoloso ed è sempre un rischio generalizzare, però quando cambia il contesto e il metodo di lavoro diventa quello della nazionale, è probabile che succeda qualcosa. A ottobre c'era andata bene, perché poi Calabria non ha più saltato nessuna partita e ha giocato fin da Milan-Verona. Ora vedremo, prima del comunicato ufficiale del Milan, prima di saperne di più naturalmente, sbilanciarsi è solo una buttada, solo un rischio, solo un azzardo. Come sempre, aspettiamo, aspettiamo e vedremo quello che ci toccherà in sorte la Fiorentina che dovremo affrontare all'inizio delle partite del prossimo slot di gara, il 20 novembre a Firenze, ha avuto anche un suo giocatore, Nastasic, un problema al polpaccio. Gli infortuni arrivano dappertutto, prima di Verona Juve si era fermato Chiesa, prima dell'ultima partita di Juventus si sono fermati Bonucci e Chiellini. Io trovo singolare che un infortunio del Milan faccia rumore come dieci infortuni di giocatori di altre squadre. E quindi dico al fenomeno di Calabria rotto che Calabria non si è rotto, il termine, lo ripeto, è volgare e speriamo che non ricominci nessun massacro, se poi di massacro si tratta, perché a ottobre abbiamo reagito ad ogni tipo di notizia negativa facendo bene sul campo. Almeno il Milan fa così, se invece vogliamo passare il sabato di sosta a piangerci addosso, liberissimi, io personalmente non lo faccio e guardo avanti. Vengo al tema di Bonucci. Ho visto spesso, nei momenti più delicati, più difficili, Italia-Svizzera ieri, che a un certo punto Roberto Mancini al culmine dei suoi giusti sfoghi dalla panchina, perché la squadra non reagiva in alcuni momenti alle sollecitazioni, si riferiva a Leonardo Bonucci. E Bonucci evidentemente poi dava ulteriori indicazioni in campo ai giocatori. Ecco, è chiaro che esiste il senno di poi, no? Leonardo Bonucci poi oggi si è speso a favore di Giorginio, dicendo comunque non dimenticatevi di rigore con la Spagna, è comunque un rigorista importante, in qualsiasi caso l'avrebbe calciato lui il rigore. Quindi, tutela il compagno. Io so che fra i tifosi milanisti sono una mosca bianca, nel senso che unanimemente il giudizio su Bonucci è negativo, io invece ho testimonianze dirette di un comportamento importante, di uno che ci ha messo sempre la faccia, anche a Milanello, nei momenti più delicati di quella stagione, nel 2017-2018 e se poi è tornato alla Juve è semplicemente perché era venuto al Milan per un progetto che gli era stato prospettato da una proprietà e da una dirigenza, un progetto che quella proprietà e quella dirigenza poi non sapevano più portare avanti. Quindi lui dice io sono venuto per quel progetto, se quel progetto non c'è più io torno torno dove ero. E quindi io ho un ho un giudizio positivo di Bonucci, anche se molti di voi non sono d'accordo e non mancherete di farmelo notare, eccetera, eccetera, ma io lo tengo. Io lo tengo in base ai riscontri personali che io io il giudizio positivo lo tengo. Per questo ho un'aspettativa sempre molto alta nei confronti di Leo e sono convinto che ieri dal discretto avrebbe dovuto presentarsi lui. In un modo o nell'altro Leo avrebbe dovuto far valere, lo dico col seno di poi, io stavo comodo, beh, mica tanto perché soffro molto per la nazionale e per il calcio italiano perché ieri era in gioco il calcio italiano, non soltanto la nazionale e ce lo hanno detto in queste ore, in questo weekend di sosta quelli del fondo PIF che sono andati a prendere il Newcastle invece di una squadra italiana di come è messo il calcio italiano. Quindi preoccuparsi per il calcio italiano significa preoccuparsi di tutti, situazione del Milan compreso evidentemente. Per cui, col senno di poi, Giorginio che sbaglia a rigore a Wembley, Giorginio che sbaglia a rigore all'andata, siamo veramente all'ultima palla verso la porta della Svizzera, la palla decisiva. Credo, credo, col senno di poi senza voler buttare la croce addosso a Giorginio, senza voler massacrare o buttare, mancherebbe altro vista le premesse che ho fatto, la croce addosso a Bonucci, resto dell'idea che doveva prendere quella palla lui e andare a calciare il rigore, come aveva fatto con la Germania all'Europeo del 2016. Il rigore anche quello pesava tantissimo, ci ha portati alle soglie della semifinale ecco, continuo a pensare che in un modo o nell'altro c'erano anche altri rigoristi importanti, in quel momento in campo, chiesa, cristante, chi volete voi, ma per tagliare la testa al toro Leo doveva prendere la palla e andare a calciare lui il rigore. Mi resta questo, lo dico col senno di poi, lo dico sapendo come è andata a finire, però appena, credetemi, credetemi, sono abbastanza in grado di condividere, intanto si è spostato tutto, adesso poi mi rinfaccerete questo momento di altissimo YouTube. Dicevo, Giorginio, ero molto preoccupato nel momento in cui ha preso in mano il pallone, ero preoccupato fin da quel momento e continuo a pensare che con il massimo rispetto di Giorginio, che ha fatto un enorme 2021, ma questi due rigori sbagliati finiranno per pesare anche magari sulle sue ambizioni i palloni d'oro, anche per il bene di Giorginio Leo in un modo o nell'altro doveva guardare negli occhi questo ragazzo, prendersi il pallone e andare a calciarlo. Adesso vedremo, giustamente i quotidiani sportivi italiani dicono non mollate, fino alla fine va bene, tutto quello che volete, però quando poi ho io questo questo brivido, questo tremore che quando un tram ti passa così vicino e non ci sali sopra chissà se ripasserà. Ciao a tutti, a domani.